Vengine bella e santa, Madre di Dio paria, ti canti un'armonia, e ti indiciamo a te. Con sola glice nostra, Gesù a te si mostra, Gesù a te si mostra, Madre santa e bella, da questo cuore santo, Gesù a te si protege, e non è la mia vita. Grazie a me, ecco la mia vita, ogni attimo è tua volontà, gloria. Noi ti doniamo, ti benedio so, ti adoriamo, glorifichiamo e direttamo grazie per la tua immenza, gloria. Signore mio, gloria. Ma la tua collera si è calmata, e tu mi hai consolato. Abbiamo appena celebrato la Pentecoste, ma la Pentecoste non è stata solo domenica scorsa, ma ogni giorno, e allora dieci secondi, dieci. Io invoco lo Spirito Santo su di voi. Qui, la festa siamo noi, allora ci mettiamo in piedi, e prendete un passoletto per favore. Amaronna, mettiamoci il burdonorio online, San Luigi Orione, Santa Barbaruzza, e poi, basta, che io non diavolo è. No, è tua madre, no, non è mai, no, non è mai tua madre. Tua marito, marita, ma... Ne so a Gera, ma ne parliamo proprio la tua. Ma, ma che il burro, sai? Poi i miei figli, ma ora non ne riesciano. No? Quelli sono i santi della porta accanto. Non è andata a cercare... Sì, le dicchie ci piacciono. Qui ci sono pochi santi nel nostro santuario, a parte Padre Michele, la maronna e basta. Però, però ci sono tanti santi, che siamo ognuno di noi. Ma voi lo sapete che... Siamo strani, eh. Ogni volta che io mi diverto, e dico, sai che tu sei un santo? Beh, magari, Padre, faccio. No, no, sei un santo. Che poi non vedi da santo, usaggio. Però sei un santo perché sei unto di Dio, l'unto di Dio. Sei battezzato. E noi, grazie a Battesimo, siamo i santi di Dio. Via dall'alto, ti guarda e sorride. Evviva Maria! Applausi. Applausi. Grazie. Grazie a tutti. Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Dio vi protegga sempre per intercessione di Maria Vergine e Madre che ha dato al mondo l'autore della vita. E a tutti voi che celebrate con fede la festa della Madonna della Consolazione concede il Signore la salute del corpo e la consolazione dello spirito. E la benedizione di Dio Onnipotente per intercessione di Maria Madre della Consolazione Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Prima di chiudere ci giriamo, voi siete già girati, noi ci giriamo verso la Madonna preghiamo per ciascuno di noi ma per tutta la città di Paternò, per il mondo intero. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. La gioia del Signore sia la vostra forza, andate in pace. Rengeniamo grazie a Dio. Buona festa a tutti! Evviva Maria! Evviva Maria! Buona festa! Buona festa! Buona festa! Buona festa! Buona festa! Grazie a tutti. 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 questo è il calice a tutti. Grazie 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 a tutti. e a tutti. Grazie 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 a tutti.